Ragionare, dibattere e scrivere di stalking è necessario, anzi indispensabile, perché la violenza riesce ancora a esprimere la propria crudeltà. La legge che avrebbe dovuto permettere di superare lo stalking non è pienamente adeguata, ne serve una rivisitazione che prevede la creazione di un'efficace rete di assistenza psicologica, economica e legale per liberare soprattutto le donne e i bambini dalla violenza.